Debutto amaro nella nuova stagione di Serie C per la Pistoiese, gli arancioni vengono battuti al Marcello Melani dall'Albino Leffe, 2-1 per gli ospiti, il risultato finale. Fischio d'inizio e si parte. La squadra di Pippo Pancaro tiene in mano il gioco, ma di occasioni vere e proprie se ne vedono poche. Alla dodicesimo e Capitan Valiani a confezionare un assist per la testa di Gucci, ma il suo colpo è fin troppo facile per Savini. Passa appena un minuto e questa volta sul fronte opposto, D'Ametto regala un contropiede agli ospiti, Ravasio scambia con Sibilli, Pisseri para in due tempi. Alla ventiduesimo ecco il vantaggio dell'Albino Leffe, Ravasio dal limite aria con il sinistro in diagonale e sigla il gol dell'1-0 per gli ospiti. Doccia fredda per la Pistoiese che alla trentatresimo prova a reagire con Valiani, ma pronto l'estremo difensore blu celeste a bloccarlo. In avanti gli arancioni, quarantatresimo, cross da destra di Falcone, Gucci di testa ma mette solo a lato. Il raddoppio degli uomini di Zaffaroni arriva al quarantacinquesimo, D'Ametto perde palla sulla tre quarti, ne approfittano i Lombardi, tiro di Sibilli, Pisseri respinge. Ma sugli sviluppi dell'azione crossa in area di rigore su cui interviene Giorgione, in mezzo a quattro arancioni e di testa mette la palla in rete per il 2-0 che sancisce di fatto la fine del primo tempo. La ripresa inizia con un doppio cambio tra le fila arancioni. Dentro Spinozzi, fuori Tartaglione e l'appena arrivato Stiepovic alla posto di Bortoletti. Da un 3-5-2 si passa così ad un 3-4-3. In campo cambia poco, la Pistoiese ha qualche difficoltà evidente nella costruzione del gioco e nella finalizzazione. Il Montenegrino ci prova in un paio di occasioni, ma più rumore lo fa Bordin vicino al settantesimo quando si ora è la palo. Il tempo scorre, si va verso la fine delle ostilità e quando ormai i giochi sono chiusi la Pistoiese accorcia le distanze con Stiepovic, servito in profondità da Gucci. Troppo tardi per poter riuscire ad agguantare almeno un punticino, vittoria meritata quella dell'Albinoleff e squadra apparsa sicuramente più completa rispetto a quella arancione, ancora in costruzione con l'attesa di altri due o tre elementi che possano dare una fisionomia più solida alla formazione di Pancaro. Chissà, magari già domenica prossima a Crema contro la Pergolettese, la Pistoiese potrebbe arrivarci più attrezzata.